Zombie Apocalypse My Home My Destiny Anticipazioni di lunedì 28 e martedì 29 agosto 2023 In ospedale, Zane è passiste al risveglio di Maddie, e felicissima e incredula, chiama subito le infermiere e il dottore, per assicurarsi che il marito stia bene. Ha accertato che Maddie sia fuori pericolo, il dottore dà la lieta notizia alla famiglia. Tutti esultano, e l'emozione per lo scampato pericolo di Maddie li fa stringere in abbracci generali di gruppo, da cui rimangono esclusi Benal e Bayram. Nel frattempo, Emine, ancora con Farouk, chiarisce che il suo discorso sul matrimonio è stato troppo avventato, non era sua intenzione spaventare il ragazzo. E che ha capito anche che Farouk volesse uscire allo scoperto e rendere la loro relazione pubblica, così da non doversi nascondere almeno da Sultan. Farouk accoglie la notizia con un sospiro di sollievo. Rinnova il desiderio di voler stare con lei, e di conoscerla meglio, prima di parlare di matrimonio. I due sembrano veramente presi l'uno dall'altra. Zeynep, dal marito, confessa finalmente tutta la sua preoccupazione per le sue sorti. Maddie le chiede se lo abbia perdonato, è l'unica cosa che gli importa. Passano tre giorni, e finalmente Maddie viene dimesso e torna a casa, dove tutti si prodigano per accudirlo e non fargli mancare nulla. Il clima è così disteso e rilassato che anche Mujgan elogia la premura di Zeynep nei confronti di suo fratello. In casa sembra esserci una serenità che ancora Zeynep non aveva conosciuto. Rimasti soli, Zeynep cambia la medicazione a medi, e tra i due, l'attrazione è sempre più alta, ma ancora trattenuta, tanto da scambiarsi dei teneri baci sulla fronte, e sulle guance. I due però riescono a confessarsi per la prima volta, guardandosi negli occhi, il loro reciproco amore. C'è un momento in cui i due sembrano avvicinarsi, fino a potersi dare un bacio, ma Zeynep si ritrae, è sempre nei suoi occhi. Infatti, la svelata paternità del figlio di Benal, che è proprio di suo marito Medi. Uscita in fretta dalla camera, Zeynep incontra subito la madre Sakine, che si accorge del malessere della figlia, e chiede spiegazioni. Zeynep è finalmente pronta a parlare della gravidanza di Benal con sua madre. Per Sakine la questione è semplice, è meglio che Medi non lo sappia, così da evitare ulteriori problemi tra lui e la figlia, ma Zeynep non lo trova giusto nascondere a Medi la sua paternità. Sarebbe un segreto fin troppo grande e sbagliato da celare al marito. Sconsolata, si abbandona al pianto. Passata la crisi, viene contattata da Benal per incontrarsi al giardino del tè. Sakine vorrebbe accompagnare la figlia per aiutarla a risolvere la situazione, ma Zeynep rifiuta, non le permetterà di intromettersi anche in questa questione. Nel frattempo, Sultan, per l'ennesima volta, non riesce a contattare la figlia Emine. Sempre più preoccupata e sospettosa, decide di frugare tra le sue cose. E frugando attentamente ritrova la borsa firmata che Emine aveva spacciato per contraffatta. E un paio di scarpe costose che la figlia le ha sempre tenute nascoste. Sultan non sa più cosa pensare. In che razza di guaio si è cacciata sua figlia? Troviamo Emine tranquillamente addormentata sul letto a casa di Farouk. Al suo risveglio, teme subito che il ragazzo sia scomparso come l'ultima volta. Sente invece delle voci, è proprio Farouk, con una donna. Farouk le spiega che la donna è una personal shop che lui stesso ha contattato, per rifare il guardaroba di Emine, tutto a sue spese, ovviamente. Non potendo portare i vestiti a casa per non farsi scoprire da Sultan, Farouk si propone di mettere casa sua a disposizione, e dice ad Emine che la può considerare anche casa sua. Ad Emine, incredula, sbalordita, e contentissima, sembra di vivere in un sogno. Zeynep e Benal si incontrano al giardino del tè. Zeynep è decisa sul fatto che Medi debba sapere della sua paternità, e pensa che debba essere Benal a dargli questa notizia. Benal rimane stupefatta, dare personalmente la notizia a Medi significherebbe distruggere il suo matrimonio. La donna, è infatti convinta che il grande senso di responsabilità di Medi lo indurrà a lasciare Zeynep, per accudire lei e il figlio. Zeynep è ben conscia di questa possibilità, ma la vita del bambino è più importante del matrimonio, o dell'amore che lei possa provare per Medi. Anche se Benal propone di sparire e di tenere tutto nascosto a Medi, Zeynep rifiuta categoricamente, lei non manterrà questo segreto così importante. Anzi, Benal dovrà dirgli tutta la verità prima possibile. Una Benal poco convinta, dalla sua parola, dirà subito tutta la verità a Medi, e dice che se non si fosse creata tutta questa spiacevole situazione, loro due sicuramente sarebbero state ottime amiche. Le due si dividono, Benal sembra sollevata dal confronto con Zeynep. C'è la concreta speranza che possa avere Medi tutto per sé, e che insieme possano vivere come una famiglia felice. Zeynep, invece, triste e sconsolata, andando via, incontra la madre Sakine, che l'aveva comunque seguita, e cerca consolazione in lei. Benal, come le ha detto Zeynep, si dirige direttamente a casa di Medi per dirgli tutto il prima possibile. Arrivata però all'entrata di casa, ripensa a come l'uomo le avesse intimato di stargli lontano, e di nominare il suo matrimonio con Zeynep. Così, Benal, troppo spaventata, rinuncia a dire la verità a Medi, e va via. Nel frattempo, Medi è in casa, e riceve la visita di Nu. L'amico gli racconta di come Byram abbia incitato il quartiere a vendicarlo, e di come anche lui e Gelal abbiano partecipato alla spedizione punitiva. Nel sentire il racconto, Medi si domanda dove sia finito Byram, e perché nessuno lo stia cercando. Nu rassicura l'amico, e chiede come si sia evoluto il suo rapporto con Zeynep. Medi è innamoratissimo, ed è doppiamente felice, perché ha capito che anche lei ricambia il suo amore. Anche Nu è rincorato, e finalmente i due amici, dopo tutte le disavventure vissute, possono ridere e scherzare spensierati. Mentre Zeynep e Sakine stanno per tornare a casa, le intercetta Sultan. La donna è ancora sconvolta per gli oggetti costosi ritrovati tra le cose di Emine. Trovata Zeynep, quindi Sultan coglie l'occasione per far vedere le scarpe e la borsa alla ragazza, per sapere se quella sia effettivamente merce firmata o meno. Zeynep riconosce essere accessori firmati, e così Sultan la prega di cercare di scoprire cosa stia combinando sua figlia, visto che a lei, Emine sta nascondendo la verità. Mentre hanno questa conversazione, Zeynep viene contattata da Benal, che le confessa di non aver trovato il coraggio di confessare la sua gravidanza a Medi. Zeynep non può più tenere questo segreto, è decisa a dire tutto al marito il più presto possibile. Prende Sakine e torna subito a casa. Anche se Zeynep, non appena vede Medi, non ha subito il coraggio di confessare tutto, nonostante sia la cosa giusta da fare. Il prezzo da pagare potrebbe essere quello di perderlo per sempre. L'unica cosa che riesce a fare è abbracciare il suo Medi, e piangere le sue ultime lacrime. Vedendola così sconvolta, Medi la incoraggia a parlargli, e a rivelargli il suo turbamento. Zeynep, così, riesce a dire che deve confessargli una cosa, una cosa che cambierà le loro vite per sempre. Zeynep comincia a spiegare, che mentre lui era in terapia intensiva, lei ha pensato il peggio, e ha realizzato che se gli fosse capitato qualcosa, le si sarebbe spezzato il cuore. Ma è anche vero che loro non si sono scelti, che il loro matrimonio è stato organizzato e non voluto da loro, e nonostante questo, loro sono rimasti insieme. Però, il destino sta mandando loro delle altre sfide, difficili come questa. Benal è incinta, e lui diventerà padre. Benal, torna a casa da Nermin, e la informa di aver parlato con Zeynep. Inizialmente Nermin la rimprovera per essersi nuovamente avvicinata alla figlia invece di lasciarla in pace. Benal, però, spiega che lei e Zeynep hanno concordato di dire la verità a Medi, il che, per sua figlia, non sarebbe poi tanto un male, visto che probabilmente i due si separeranno, e lei potrà tornare alla vita di prima. Nermin, che vorrebbe solo che la figlia vivesse la vita indipendente che aveva sognato per lei, comincia a vedere la situazione secondo questo punto di vista. E Benal tira un ulteriore sospiro di sollievo. Forse le cose stanno andando per il verso giusto per lei. Medi, ancora sconvolto, chiede spiegazioni a Zeynep. Lei gli spiega che all'inizio non sapeva che il bambino di Benal fosse suo, che ha convinto la donna a non abortire, e che lo rifarebbe volentieri, ma che ha paura di perderlo, visto che la vita del bambino è importante anche per lei. Medi è commosso dalle parole della moglie, e ancora convalescente, si precipita a casa di Nermin per parlare con Benal. È il tempo della verità anche per Emine, che mentre torna a casa, trova una sultan furiosa, che non accetterà più le sue bugie, mettendole davanti scarpe e borsa firmate. Sultan incalza la figlia, fino a quando lei non confessa. È vero, frequenta un uomo, è intelligente, colto, e ricco, e sembra veramente interessato a lei. La loro storia è seria, e sua madre non deve preoccuparsi. Sultan vorrebbe sapere il nome, o almeno vedere una foto, ma Emine si rifiuta, perché altrimenti lei scoprirebbe che si tratta di Faruk. Negando però una foto a Sultan, la donna pensa che l'uomo sia vecchio, o sposato, e la sua preoccupazione per la figlia non si allevia. Lui rimane un uomo ricco, e gli uomini ricchi non si mischiano alle persone povere come loro. E se c'è qualcosa che assolutamente lei non vuole, è che la figlia soffra a causa di ciò. Zeynep poi parla finalmente con Emine di tutta la situazione con Benal, e l'amica si risente un po', sia per il fatto di non essere stata messa al corrente. Sia per il fatto che anche in questa situazione Zeynep non scegla mai la via più conveniente per lei, ma metta sempre al primo posto gli altri. Zeynep, stanca di essere giudicata sempre da tutti, chiede allora a Emine chi sia l'uomo che le fa questi regali costosi. Lei sa che l'amica lo ha incontrato su internet, e di conseguenza teme per lei. Emine sa di non poter dire la verità proprio a Zeynep. Come confessare alla sua amica che l'uomo del mistero è proprio il suo ex fidanzato Faruk? Medi. Intanto, è arrivato da Nermin, e aspetta Benal per discutere di quanto ha scoperto. Benal arriva speranzosa al loro incontro, è convinta che lui lascerà Zeynep per dedicarsi ad accudire lei e il loro bambino. Medi comincia a chiedere da quanto sia incinta, dice che lo avrebbe voluto saperi prima, e che non le avrebbe mai chiesto di abortire. Benal, sempre più speranzosa, cerca un contatto con Medi, che viene rifiutato senza indugi da lui, che senza mezzi termini dice in maniera molto chiara che lui non lascerà mai Zeynep. Si prenderà cura del bambino, assumendosene tutte le responsabilità, ma non lascerà mai sua moglie per stare con lei. Lui ama Zeynep, lei è tutta la sua vita, e mai per niente al mondo rinuncerà a lei. Benal, offesa, risponde che questo è quello che pensa lui, ma dovranno aspettare di scoprire cosa vorrà fare Zeynep. Intanto Zeynep ed Emine continuano la loro discussione in cucina. Preparando un caffè, Emine fa riflettere l'amica su una cosa. Cosa farà qualora il matrimonio con Medi finisse? Tornerebbe alla vita di prima? Zeynep dice di sì, in molti sarebbero felici di questo, sia Nermin che la stessa Emine. Proprio l'amica, però, le dice che se lei è innamorata di Medi, dovrebbe combattere per lui, e non piegarsi a ciò che è meglio per gli altri. Il discorso di Emine sembra vertere sul fatto che per una volta Zeynep dovrebbe reclamare ciò che vuole, e non arrendersi, e rinunciare a quello che desidera, solo per far felici gli altri. Ma questo discorso appassionato di Emine viene dal cuore e dall'amore per la sua amica, o forse ha paura di perdere Faruk qualora Zeynep dovesse tornare alla sua vecchia vita? La discussione tra Medi e Benal non è ancora finita. La donna chiarisce una cosa fondamentale a Medi. Lei non abbandonerà mai suo figlio. Non permetterà a lui e alla sua famiglia di prenderlo e crescerlo senza di lei. Medi non capisce perché lei nutra questo timore. È ovvio che non succederà. Benal, però, dopo il trattamento ricevuto dalla famiglia di Medi, non è d'accordo. Lui però è all'oscuro di tutti i sotterfugi fatti da Gemile e Sultan, e rimane senza parole. Benal allora, gli rivela che lei avrebbe voluto parlargli della gravidanza, e risolvere il tutto con lui e sua madre. Ma Gemile, una volta scoperto tutto, avrebbe tramato con Sultan per allontanarla. E non contente, dopo averlo detto a Zelia, lei invece di aiutarla, le ha dato dei soldi per abortire e sparire. Medi non può credere alle sue orecchie. È senza parole. È scioccato. Non sa se crederle o meno. Non contenta, Benal rincara la dose. Per convincerla a sparire, Gemile le avrebbe anche detto che lui sapeva tutto della gravidanza, ma che non gli importava. Quindi lei pensava che lui sapesse tutto, e che era d'accordo nell'allontanarla e abortire. Gemile e sua madre hanno ingannato sia lei che Medi, per questo lei si è trasferita da Nermin. Benal, infine, gli porta come prova i soldi che Gemile le aveva dato. E Medi, totalmente sconvolto, non ha più parole per ribattere, ma solo lacrime e le sue sincere scuse. Terminano così queste anticipazioni. Se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.